Riparte il servizio di rifezione scolastica nelle scuole materne ed elementari di Chieti. Da lunedì 19 febbraio verranno preparati 1200 pasti, dopo che il Comune ha affidato temporaneamente con gara d'appalto il servizio ad un raggruppamento di imprese composto da SH Gestioni SRL ed Euromense SRL, che si è impegnato a riassorbire tutti i lavoratori delle mense. A illustrare i dettagli del servizio, le modalità di iscrizione e le altre informazioni necessarie alla ripartenza sono stati questa mattina il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo, l'assessore alla pubblica istruzione Teresa Giammarino, la dirigente comunale Angela Falcone, Francesco Ciccocelli per la SH Gestioni SRL e Nadia Dorazio di Euromense SRL. La ripresa è e resta una priorità, non abbiamo mai smesso di cercare una soluzione a questo problema assorto a causa di situazioni complesse e risorse incerte a causa del dissesto finanziario dell'ente, evidenziato il sindaco Ferrara, scusandosi per i disagi che le famiglie hanno dovuto affrontare. Ma, ha aggiunto l'assessore Giammarino, siamo riusciti ad affidare temporaneamente il servizio, un gruppamento di imprese e stiamo predisponendo un nuovo bando per l'affidamento del servizio per i prossimi 5 anni. Di pasti inizialmente siamo già a circa 1200, anche perché con la nuova app, con il nuovo sistema che abbiamo immesso dal secondo anno, diciamo. Quindi è un sistema innovativo dove è molto più facile, molto più coordinato. Il costo è di circa 4,50 euro a pasto e pensiamo che sia un prezzo decoroso per quello che loro hanno promesso di dare. Si prosegue quello che era anche negli altri anni, però con un'ulteriore soddisfazione, dato che chi si è aggiudicato alla gara sono dei locali e quindi ci sarà la filiera corta, ci saranno i cibi biologici, dalla carne al latte alla frutta. Diciamo che sarà sicuramente migliore anche il confezionamento dei pasti, dato la vicinanza del centro cottura e poi anche dei lavoratori stessi della Ladisa che erano rimasti sospesi, che sono stati totalmente riassorbiti da questa nuova ditta.